Dal ritorno del Comando dei Carabinieri alla riqualificazione della zona industriale di Santa Fiora, passando per le novità riguardanti la gestione del Museo Civico. È stato un 2017 particolarmente impegnativo quello dell'amministrazione comunale Biturgenze, guidata da Mauro Corgnoli. A fare il punto del percorso, iniziato a giugno 2016, è lo stesso primo cittadino che, siamo alla sua squadra, ha incontrato la stampa. Nel 2017 sicuramente il ritorno della Compagnia dei Carabinieri a San Sepulcro è stato una delle più grandi notizie, più grandi attività fatte. Il Museo Civico, la svolta del Museo Civico, dove è stato a bando, ha segnato il museo per una gestione per tre anni, dunque una gestione nuova, dinamica, bella e interessante, che ha portato sia economia nel comune, sia a livello di persone che a livello di denari. Dunque una gestione nuova, con personale qualificato, esperto, che si propone con un'accoglienza moderna, così possiamo definire. Video sorveglianza, l'attività d'azione del secondo straccio della video sorveglianza, l'apertura dei lavori allo stadio per andare all'implementazione dei lavori nella zona industriale, ai bandi vinti, pensiamo sulle scuole, la scuola media Bonarroti per la sismica, 2 milioni per la ristrutturazione. Un anno che si chiude con l'approvazione in giunta del bilancio preventivo per il 2018, praticamente un record per il comune di Sansepolcro, che agevolerà gli impegni del nuovo anno. Sì, oggi abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2018, è la prima volta nella storia del nostro comune che anticipiamo questi tempi, che ci permetterà di non andare in dodicesimi in fase amministrativa, avremo alcune premialità, l'impostazione, ma anche l'impostazione della bontà del bilancio dello scorso anno, se pensiamo ai piccoli aggiustamenti di novembre. Dunque, nella progettualità, considerando che la macchina era nuova, eravamo alla prova come squadra e all'attenzione con tanti gruppi consigliari di minoranza che sono lì attenti, diciamo di questo siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro fatto. Nel 2018, pensiamo al Museo Civico, ci sarà l'inaugurazione del grande restauro della Ressurrezione e abbiamo messo risorse per completare il restauro, finire i lavori, mettere in sicurezza le pareti per poi andare a sistemare la sala con l'illuminazione, con le ritenticciature, tutti i lavori che saranno fatti e ci auguriamo prima di Pasqua e stiamo correndo per poter procedere a questa grande inaugurazione.